Iniziamo con il campionato provinciale di prima divisione femminile. A quattro giornate dal termine, la nuova Lega Pallavolo ha e il Tallywell Sanremo, grazie al turno di riposo della capolista Maurina Strescino a 36 punti, si portano rispettivamente a 33 punti e 28. Il Tallywell, che nelle immagini vedete in maglia nero-gialla, ha superato per 3-0 il Salis Ventimiglia e la NLP-A con l'identico punteggio il Sanremo Sport. Gli altri risultati sono il Golfo di Diana 3-0 sul Mafrataggia e la vincita della Maurina Class 3-1 sulla NLP-B. Anche la prima divisione maschile è giunta a quattro giornate dal termine. Il PCLani Sanremo esce sconfitto da Villormone, ma solo al tie-break, ad opera del VT finale, restando al settimo posto con 16 punti. Il Cariparma Imperia perde in casa dell'Oano per 3-0 e resta al penultimo posto. Per quanto riguarda i campionati regionali della Serie C femminile, abbiamo una bella vittoria delle grafica Madeo Sanremo, che vincono per 3-1 sul campo della seconda in classifica, l'Albissola. Una sconfitta casalinga al tie-break per il Salis 20 miglia, opposta al VGP Genova. L'Anfossitaggia, perdendo in casa per 3-0 con il volare a Renzano, vede aumentare a 5 punti la sua distanza dalla zona salvezza. A due giornate dal termine, solo la matematica la tiene ancora in gioco. Per quanto riguarda la Serie D femminile, nella pool retrocessione, il Tup Volley Sanremo, sconfitto in casa dal Serteko Genova per 3-0, resta in ultima posizione di classifica, in coppia con il Prorecco a 6 punti. Per la Serie D maschile abbiamo due vittorie, il Cariparma al tie-break sul Sarzana e sesto posto con 27 punti. Il Tattoo Planet ha vinto 3-1 sul campo del Ceparana, aggiudicandosi il settimo posto con 26 punti. Passiamo ora con le immagini di risultati ai campionati giovanili. Per l'Under 13 femminile nel Gironea, la pizzeria Elbilli, che vedete in maglia blu, ha superato per 3-0 il Sanremo Sport e il Vollecrosia sempre per 3-0 il Conad Imperia. In classifica Elbilli è posto a 21 punti e il Diano ha 20 punti con una partita in meno. Nel Girone B, la Maurina ha vinto 3-0 sull'Arma Red e NSC Imperia ha vinto 3-0 su Mazzucchelli Rosa. Per quanto riguarda la classifica, troviamo NSC Imperia a 20 punti e Maurina a 15. Nella semifinale regionale di Under 14 femminile, il Salis Ventimiglia ha perso 2-1 con il Cogoleto e 2-0 con il Sarzana, restando così fuori dalla finale. Si è concluso il campionato di Under 16 maschile 3-3 con la vittoria e titolo provinciale per il VT Armataggia. Secondo il Carri Parma, terzo e quarto posto per le squadre del Sanremo Volley. Concludiamo con due importanti appuntamenti regionali in programma domenica prossima. Nella palestra Itis Imperia alle ore 16 ci sarà la finale Under 15 maschile tra il Sanremo Volley e Planeta Albissola. A Villormoni invece alle ore 17.30 l'Under 16 femminile con la nuova Lega Pallavolo contro il Ceparana. Con il volley ho finito, vi auguro un buon weekend!